Musica 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 Si è spaccata tutta la scatola Mettoni, vieni, non li voglio mettere Musica Musica qua vicino a me a tutti perché è un momento molto molto importante Andre manchi tu io ve lo so dire che è mezzanotte e quaranta ma non mi interessa qualche giorno fa il mio amore fidanzato ha pensato bene di fare un video dove faceva la mia giornata tipo perché l'hai fatta tu però diciamo che io penso che tu abbia un po' esagerato io ho stoppato subito questo video perché Andre aveva ragione Andre mi ha detto non ti piacerà hai dato il mio vestito bianco a Nicole tu hai detto che andava bene in ogni circostanza vabbè comunque quindi oggi ho deciso insieme al mio amico Ricky che ancora non l'ha visto insieme al cameraman insieme a te insieme al mio amico Andre di guardare insieme a te questo video vuoi dire insieme un'altra volta? hai visto che Ricky brilla di luci e propria come una stella si che bello sono sotto i riflettori credibile ah che comunque sotto il bippo vuoi sapere cosa ha detto? nooo non lo voglio sapere alzo un attimino il volume farei notare che è uscito da giorni e sei ancora in tendenza è normale è un video bellissimo è un video bellissimo farei notare che ha lasciato anche like io gli lascio sempre like al mio amore è un video bellissimo Andre mi è piaciuto è un bellissimo video Ricky siamo pronti per iniziare sarà stupendo siamo pronti per iniziare alla prima riserva ti stacco un dente vede quante felice? somma oh yalla lasciami la più forte lasciami la più forte è uguale dai dai ma ciao amori miei mi raccomando di scrivermi nei commenti quale parte del video o quale scena vi è piaciuta di più ciao piccoli buona video faremo il pranzo di natale il pranzo di natale al goscia vero? il 31 gennaio il 21 dicembre il 31 gennaio il pranzo di natale il 21 dicembre il 21 dicembre il 31 gennaio il pranzo di natale sembra proprio una caccolina anch'io una caccolina una caccolina se ho comprato le scarpe il piatto ce ne arriva anche no mi ero rinato 300 euro costante le scarpe le sappiamo usare perché se non prendi la mia taglia se non prendi la mia taglia poi dai devo prendere la tua taglia ecco perché non le abbiamo le hai nascoste perché le rovinate se leganza va le hai nascoste in realtà il mio zanno di allochitti bella storta questa miss eleganza eh eh sono un bijou no? oggi con la barba con la barba con la barba occhi non dico occhi quando sto con staccia non mi cura moltissimo la verba è uguale intendo che gli fregagli il gioco da Fortnite allora quest'oggi farò la tipica giornata di me stessa e quindi iniziamo non sono la carrize ma non ho il giaco ma non ho il giaco il cane non c'è mi hai rotto le scarpe per fare sta scena mi sono quasi spaccato una caviglia non hai capito il cane non c'è perché sta cadendo sotto di te ma va il cane sta vicino a me vedete quanto sarà finito vediamo gaco ma il fatto è un altro in teoria loro se la lasciano le scarpe gaco guarda non esce neanche giuro amore l'hai terrorizzato il cane ma non è vero mamma sei tu no? non è vero mi hai riesco dagli occhi lo so io ho rotto dagli occhi non ce lo vedi che vuole ciurri? ciurri non mi chiamano bene dimmi ciurri dimmi ciurri non ciurri non ciurri non ciurri non ciurri come no? ride perché rispecchia la verità rispecchia 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 pure claus chiedo un attimo a finire un video un secondo ok? io continuerò a immaginarti il muro sul comodino ma amore ma amore l'ho dici tu cos'è dov'è giaco? non è un gioco il mio cane la pappa non si chiama così il cane chabli guarda cos'è qua ma dov'è? ma il film con mio amoli adesso scappa sicuramente è felicissimo non è molto felice guarda con un braccio ma guardalo che buccio raga è terrorizzato questo cane attento è terrorizzato non mi hai letto che eri il tipo lo scappi andiamo a giocare tutti insieme ora mi uscirò il miglior gioco preferito del mio giaco ok vedete potete rimanere un giaco nooo ma giaco oppure zank è il suo nome ognuno il grido zank dove hai la mamma? chi sei la mamma? qui sei proprio di merda non lo lavi mai totta totta cavallino totta totta sommarello lo vedete quanto è felice? insomma totta totta cavallino totta totta non è felice non vedi che non è felice che cazzo è questo adesso? è terrorizzato perché non capisce perché non capisce adesso che non è la mamma lui vede la mamma ma ma li togliamo tolta giaco sono i gattoni ma poi perché c'è la giaca in casa? i gattoni i cani ma non glielo ho messa io femmino maschio fai il dance sono i gattoni creme se hai fatto la pipì qua ti sgoccio l'ha fatta? perchè non c'era il coso? ma non lo so l'ha tolto i gremi bravissima non è mai stato così preoccupato ma sei uscita veramente ho occupato un fattiglio un blatto andiamo, andiamo andiamo a vedere tutto sarà un viaggio lunghissimo ci divertiremo un sacco un'oretta di viaggio tipo vai sei pronto Jack? andiamo andiamo ammazza già finito abbiamo fatto un giretto Jack non l'hai portato nel corridoio e poi l'ho ancora è finita amore non l'hai fatto ancora non ho visto nessun taglio amore sei stato il figlio non vai venendo di ridere e anche oggi è l'invitazione ma com'è anche oggi il giretto c'è stato facile ma è il giretto settimanale ma è il giretto settimanale ciao amore vado pure a scoracciare quel casa e non li ha avendo dati giollo 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 mettiamo apposto le scarpe ascolta qua allora Sasha dice sempre di metterle giù la scarpe la scarpe no vado bene ahahah come dici io che le in gattone solitamente è di rilassi è uguale per noi è uno degli ultimi arrivati ma non rilasciare setto aspetta giollo per chi ride ahia il problema è che giollo fa la cacca come le uni ahahah e quindi questa è la stanza dove gli diamo la pappa io ti faccio lo zoom ahahah la stanza dove loro fanno la caccona va bene guarda che non la pulite dove fanno la caccona dove fanno la caccona sono fermo dove fanno la caccona e parli con lì lo facciamo fare e quindi non quant'è questa è piena 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 un sacco di cose non fa ridere questo è il mio zainetto io amo i snoopy non è snoopy è il lochitti infatti ho detto anche il lochitti effetto devo fare una annuncia importante questa è la corona di due che porto io guarda io faccio anche gli insegnamenti per le pozzole quindi farò una stella dove dico che smetto di mangiare assolutamente qualcosa bravo è bella ma quella che c'era sotto non è vero non è vero non è vero non ho i popcorn lì vittini nascosti lì li tieni non li mangio così poi perchè non devono cadermi e senti proprio dove hai il caramello non mi piace il caramello se è popcorn non mi piace il caramello se è popcorn falso non consumiamo l'ho mangiato oggi vabbè dopo in tasca e non li mangio dopo vabbè che tanto non far ingrassare i popcorn l'ho cleano di pendenza e io non vorrei che le mie piccole pensassero che sono una piccola ma perchè io parli? perchè cleano? sono anche una ragazza dai sani principi infatti sono molto sciolare faccio dilattica e pittica faccio la spaccata la paccata eh la paccata si la paccata? ehi ma la puoi fare le amore ma che saprano ci sono questa stanza non basta e ormai ci ha presa la mania ma devi sciolo metterti peltella e aprire le gambe perchè parlate come dei dei picchini perchè la paccata la paccata non è quella del teatro tutti così l'ho spaccata no io sono insegnante di ginnastica artistica vuoi insegnarmi le cose? non vorrei mai guardate lui è il mio gatto Arturo perchè guarda al muro ed è stupido l'hai grattato il sedere e si arrabbi non si crea a testa di Arturo io l'amo tanto cos'è che hai detto? mi vogliono dare dire che l'uomo tanto no ecco perchè se ne ha persa la mia scatola l'altro giorno lo sto guardando no è che li ho solo comprati vedrete un video sul canale non preoccupate li ho comprati solo perchè stascia mi dicevo non li lavo mai e allora ho comprato i sciopoli li creo da me stessa questa giornata comunque è un sacco stancante ma stancante di che? cosa che hai fatto? no come no? ma no no l'ho rotto ma questo perchè è digerito ma come al ristorante dove metti la coltona? non accetta no 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 hai appena mangiato non gli diciamo più questo è vero ma hai appena mangiato l'ho sentita mille volte questa frase al resto fra l'altro non sei credibile con quella faccia ma cosa? ha le carote? dietetica? vegan free? con le castagne ecco dove è andata la prostata di Tommy ma lo metteranno con questo video? eh si ma lo metteranno con questo video? tanto se i miei video non li guarda no 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 scommetto che l'ho mangiata non la voglio non la voglio per il video! non stiamo fanno e mi perdona tutto due me la puoi concedere la mangia una volta al mese ma cosa che la mangia anche ieri non è vero la mangia in brezzo di giorno mannaccio a te mannaccio a questi labius non mi ricordo proprio al giorno io ho anche insegnato come si beve dalla vanilla li abbiamo insegnato li abbiamo comunque insegnato oh yeah oh yeah la ciavela più forte la ciavela più forte bravo bravo amore tu mi ti ha insegnato mamma cosa che gli hai detto nessuno ha aperto l'acqua tutto riconoscibile al rumore ahah quando diciamo la pappa diciamo è l'acqua è vero non abbiamo mai detto è l'acqua ok bravo adesso basta se no poi ti cagli come la mamma ha detto che si caga addosso questo è quello che faccio nel tempo amore ma quante velocità hai messo in questo video stai diventando ricco no 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 è staccata la giornata ho fatto tre passi adesso abbiamo un po' di tempo libero e quindi sapete cosa fa la vostra gmail nel tempo libero faccio il facebook fammi indovinare guarda i video dei ghiottoni e anche dei cani bellissimo l'ho visto questo e si guarda quanti cagnoloni non sono si fai così noo ma che belli cagnoloni non sono ma che belli cagnoloni cosa fanno cosa fai oh mo cagnoloni voglio 11 voglio 11 voglio 11 ecco come è nato lo zoni sashina che belli no ci date il profilo guardi date mamma mia è anche il mio tempo libero hai passato il tempo libero a guardare i video dei cani diamo palestra? palestra? ma non fa freddo io da settembre a maggio non esco di casa no aprile ma fanno 20 gradi fai così fai fai entrare un po' d'aria la senti tu veramente però non posso dire per risolvere il problema vieni qua molle ma resta in casa sta roba qua è proprio roba che Michael spampinato leva te portami Mirta che è più pesante bugia come ultima cosa fai una sorpresina a Sasha che ti ama tanto miro lui c'ha mai tanto tatuaggio no abbiamo tanto te si hai fatto un tatuaggio? no mi voglio fare una sorpresa mi faccio a casa sempre più marcata mi faccio il video reaction mi mai vi piacciono per me le vostre cucciole questo non l'ho mai visto Alice guarda da sola adesso certo certo cioè questo è soltanto la base per far vedere se piace le cucciole non è quella roba che hai avuto per una settimana sulla gamba è triste mazza che coscio ma da quanti peli ma perché ti mancano i peli lì? ma sì una volta all'anno è una roba speciale solo per me e voi eh guardate un cuore è un pugno guarda è solo per buono ma perché è triste? è un triste tutor così ci possiamo giocare quando vogliamo non c'è bisogno della carta e se perdi non c'è bisogno della carta e facciamo così e facciamo così e facciamo così e poi facciamo così hai perso e Sasha cina percio no che sbagliato oh cacchia allora tu adesso dovrò parlo da un'altra parte ma perché parli così? comunque io direi che direi basta io direi che ma ma che cos'è? ma che cos'è? passa molto impegnativa è molto sul mio canale cioè sul canale di Sabri vabbè vedete anche io dove imito Sasha una roba da non perdere assolutamente grazie mille cucciole per aver visto tutto questo video abbiamo tanto l'ho ci vediamo a Zomarin a Luca è già passato al Gosher dove possiamo passare il Capodanno il Natale e la pace non è vero solo il Natale muo riguoni amici ciao muo riguoni c'è all'inizio muo riguoni c'è no vabbè comunque Sabri ti ama no no sì no questo è bene quando fai il root quanto mi date? un bel 80% è buono c'è quindi 8 su 10 il voto 8 su 10 scusate sto sentendo il mio video abbiamo tanto sì nel senso anche tu la è vero quindi troverete anche sul canale vero di Sabrina dove imita me ovviamente è tutto uno scherzo sì ma il mio è simpatico ma è il tuo passino il mio è bellissimo è bellissimo anche per il soprattutto scusate sto ascoltando sascia guardate che cosa mi ha rivelato addio non lo trovo più non c'è neanche dove l'ha andata è nell'altro armadio scemo sascia vuole che metta il suo vestito bianco ma solo per le cose importanti adesso devo andare a incontrare il presidente della repubblica ammazza un casino migliore di questa non c'è mettilo eh no lo metteremo quando il vero amore amore cacoline spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace per la vostra gamer preferita un bacio da Jack un bacio da Amita un bacio da tutti i gattoni e soprattutto dalla vostra preferita Sabrina ciao 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 bellissimo bellissimo ti giuro che se chiudo gli occhi vedi il drago si ma io non ho capito amore ma perché parlavi così perché parli tu così io non parlo così ma puccioline mi dite nei commenti se vi è piaciuto il video dai se lasciate un mi piace io stanotte vi penserò siete sempre nella mia testa e verrò a casa vostra a mangiare la torta se fate il compleanno domani passerò da casa vostra non vi preoccupatevi e al prossimo momento portatevi con lo statino e con la nutella ricordatevi che la zomaline tocca l'emo i dolfiniti è già passato zomaline è uguale l'avremmo toccati allora e ciao ciao muri buongi muri buongi si dice all'inglese ci vediamo domani e allora muri arrivederci con un nuovo video studiate eh che poi vi cerco si lo studio è importante è meglio che io spesso dove la nutella dov'è dov'è oh che dolci t'ammazzo io Grazie a tutti.